Beh già è arte e la moda di per sé perché comunque gli stilisti creano la moda, è uno stile sempre, ogni anno, da anni e anni e anni. Poi via Borgognone è una via molto battuta da noi donne amanti dello shopping e per cui mi piace molto l'idea che siano anche aperti i negozi di sera, che ci sia l'arte e non solo quella della moda appunto.